volete vendere il vostro orologio su orafix eccovi una guida passo dopo passo per farlo nel modo più semplice e veloce possibile per prima cosa bisogna registrarsi creando un nuovo account per farlo basta inserire tutti i dati richiesti in particolare quelli obbligatori contraddistinti da un asterisco rosso nome cognome numero di telefono indirizzo città cap email e la password scelta per orafix nella pagina del vostro account selezionate la voce diventa un venditore scegliete tra privato commerciante compilate con i vostri dati tutti i campi e allegati i documenti richiesti a questo punto siete un venditore e potete scegliere se vendere direttamente a orafix o pubblicare il vostro annuncio per aggiungere acquirenti privati se avete scelto di pubblicare il vostro annuncio dovrete compilare la scheda prodotto con i dati richiesti la condizione del vostro orologio e gli accessori inclusi come scatola originale e documenti possono fare la differenza quindi non dimenticate di elencarli siate onesti e dettagliati nella descrizione dell'orologio la sua storia eventuali revisioni graffi o peculiarità possono essere importanti informazioni per i potenziali acquirenti volendo per una maggiore visibilità potete optare per un'inserzione sponsorizzata al costo di 50 euro una volta effettuato il pagamento il vostro orologio sarà in evidenza per tutta la durata dell'offerta garantendovi un aumento delle possibilità di vendita anche le fotografie del vostro annuncio sono essenziali assicuratevi che mostri l'orologio nella miglior luce possibile per confermare che l'orologio sia effettivamente in vostro possesso vi chiediamo di impostare specifici orari sul quadrante e di scattare delle foto in questa configurazione se ciò non fosse possibile potete sempre scattare la foto dell'orologio accanto a un foglio con gli orari scritti a mano confermate tutto schiacciando richiedi pubblicazione e il vostro orologio sarà pronto per trovare un nuovo proprietario ricordatevi di aggiungere un metodo di spedizione con i relativi costi ci occuperemo noi di controllare e pubblicare il vostro annuncio se tutto in regola il vostro orologio sarà subito disponibile sulla nostra piattaforma e visibile a migliaia di potenziali acquirenti mettere in vendita il vostro orologio su orafix è davvero semplice